Alessandro Caneschi, segretario comunale del Partito Democratico, ancora insomma sono pochissime le sezioni che mancano, ma insomma è ballottaggio? Sì, mancano ancora alcune sezioni, come dicevi, però insomma sembra che il trend sia stabilizzato e quindi probabilmente andremo a ballottaggio e per noi è comunque un grande risultato che non era scontato. Ecco, come si lavorerà ora per le prossime due settimane? Perché chiaramente è un po' come riazzerare la partita. Sì, ballottaggio si riparte da 0 a 0, noi dovremmo convincere tutti i aretini che oggi e nei giorni del voto hanno dimostrato la maggioranza di non gradire l'operato della Giunta Ghinelli di votare convintamente Luciano Ralli che è una grandissima alternativa per la serietà e per l'etica applicata. Il PD è il primo partito? Sì, una grande soddisfazione non solo come candidato ma soprattutto come segretario comunale del PD. In questi anni è stata dura, ci sono state scissioni da una parte e dall'altra e quindi rimanere, restare ad essere il primo partito a livello comunale è una grandissima soddisfazione. Ecco, quando avete iniziato a leggere quei numeri che cosa avete provato? Insomma un po' di timore devo dire c'è stato, però dopo alla fine sono avute fuori le sezioni nelle quali chiaramente Luciano aveva più appeal e anche nelle sezioni diciamo tradizionalmente più di centrodestra tipo la tricca abbiamo comunque tenuto e questo è un segnale estremamente positivo.